Buongiorno a tutti, benvenuti al consueto commento ai Vangeli. Sono Padre Andrea Mere, frate minore conventuale, qui alla chiesa di San Francesco in Siena. Il Vangelo che oggi leggeremo è tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 16-23, che adesso leggiamo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagove, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Carissimi, il brano che abbiamo appena ascoltato fa parte del discorso missionario di Matteo, e precisamente nel brano delle persecuzioni future. Avendo consegnato ai discepoli e agli apostoli soprattutto il potere sugli spiriti impuri e il potere di guarire le infermità, ora svela quello che gli aspetta e a ciascuno di noi di conseguenza. E cioè che purtroppo questa manifestazione definitiva della rivelazione di Dio in Gesù Cristo ci porta ad essere in mezzo a persone di dura cervice, di persone che hanno imparato nella vita a essere autonomi da tutto e di prendere decisioni personali rispetto a ciò che da sempre è stato e che Dio è il creatore e che ha creato perché ci vuole con sé, perché ha preparato un regno per coloro che credono in lui. E quindi dice vi mando oggettivamente come pecore in mezzo ai lupi. D'altronde che cosa è avvenuto per Gesù stesso? Lui che era la voce del padre, il verbo Dio che ha creato il mondo. Chi è più eloquente del Cristo, l'atteso di tutta la creazione? E nonostante tutto l'uomo è stato capace di andargli contro per idee proprie, per antipatia dell'altro, non accettazione della verità che Gesù stava confermando e che fu data in modo pedagogico in tutti i secoli prima di lui. E quindi questo guardarci e metterci in guardia dagli uomini non è un modo per farla franca, per cercare di salvarci o chissà che, ma proprio per conservare la verità. la verità non può essere confusa, la verità è quella che viene detta, è quella che Gesù dice non può essere messa a confronto con altre. E lui manda i discepoli con poteri, sapendo però che qualcuno metterà i bastoni tra le ruote, perché loro vi consegneranno ai tribunali e vi flaggereranno nelle loro sinagoge. Questo credo che sia anche un po' come dire attuale. Se oggi come oggi cerchiamo una socialità, una socializzazione organizzata con idee umane e quindi a prescindere da quelle divine che hanno condotto fino a noi e che Gesù ci ha rivelati definitivamente, noi siamo in balia di coloro che credono di pensarla meglio. Gesù dice che non dobbiamo preoccuparci di quello che dovremmo dire, giustamente, perché non deve parlare un'intelligenza umana a livello cattedratico, ma deve parlare il cuore esistenziale dell'uomo che afferma le verità da sempre. Le cose evidentemente naturali non possono essere confusi da un'ideologia e chi ha paura di non essere rispettato, perché noi cristiani ci hanno rispettato qualche volta, che abbiamo subito martiri fino al terzo secolo solo con Costantino, che si avrà una libertà di religione. E quindi oggi stiamo ritornando, come prima, a dover discutere di cose evidenti con terminologie imposte. Il rispetto della persona sta nel fatto che Gesù stesso dice non fate agli altri quello che non volete sia fatto a voi. E quindi che significa? Che nel rispetto di una condizione sociale e civile tutti devono rispettare tutti, non imporre un modo e poi dopo farla pagare secondo i propri tribunali, come giustamente Gesù anticipa. E quindi qua il fratello mette a morte il fratello, il padre il figlio, i figli si rivolteranno con i genitori. Sembra quasi che ci stia preparando un'azione contro di noi. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi noi non possiamo non dire la verità, non possiamo evitare coloro che ci fanno del male perché ce lo faranno, ma certamente noi siamo salvati in ciò che crediamo e cioè Gesù Cristo. La salvezza dei giusti infatti viene dal Signore e Gesù in altri passi come Matteo 7 ci ricorda che non chi dice Signore e riditerà il Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Chi pensa di essere illuso di avere opportunismi di vita che salvano momentaneamente ma perdiamo l'anima si sbaglia di grosso. Noi dobbiamo vivere secondo il battesimo in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che è colui che ci rivelerà e ci ricorderà tutto quello che Gesù ha detto. Qui non si tratta di disquisire con altri in modo cattedratico come ho già detto, ma di dire con fermezza quello che il Cristo ci ha lasciato in dono per poter continuare l'opera salvifica di Dio Padre. Pace e bene a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.